Ciao Fragoline! Nuovo video! Allora, primo video di agosto dei Grattevinci, ovviamente vi dico già che vedete 5 video nel mese di agosto solo Grattevinci, perché poi a settembre, per il primo mese di settembre, ovviamente non metterò altri video dei Grattevinci, ma passeremo poi all'altro mese successivo. Anche perché sono più di 30 euro spesi solo per questi 5 video da fare in questo mese. Per cui, vediamo se sono fortunata, vediamo se ho vinto, ovviamente ho preso il 10x che è nuovo, cioè questo, e poi il turista per 10 anni nuovo. Ho preso questi due perché volevo cambiare, per cui calcolate che questo 2 euro e questo 2 euro, 4 euro spesi solo per questo video. Per cui, prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video quando escono, lasciarmi un like a questo video se vi piace questa tipologia di video, seguirmi su Instagram per gli spoiler sui Grattevinci, che adesso metterò spoiler sulle mie storie di Instagram, così sapete quale Grattevinci ho preso in questo mese. e un commentino qua sotto. Detto questo e quando avete fatto queste cose... Ok, iniziamo dal turista 10. Allora, spero che vedete così. Allora, iniziamo dai numeri vincenti, che sono questi. Abbiamo un 25, un 45, e un 42. Il bonus lo vediamo però, diciamo dopo. Allora, qui abbiamo 23 e non ce l'abbiamo. 21, abbiamo il 25, poi passiamo. 19, però sono, diciamo, numeri alti. Non va bene questa cosa. 24, ma dai che sfiga. C'era il 25, invece abbiamo trovato il 24, potevamo vincere 5 euro. Andiamo avanti che è meglio. 16, scusate, stavo leggendo la cifra sotto invece di leggere il numero. Allora, 16, non ce l'abbiamo. Anche questo non era male, 5 euro. Poi, 14, direi che qui non sale. Poi, 12, non ce l'abbiamo, però sale di prezzo, perché 500. ma non salgono i numeri. Secondo me, 45, 42, non ce l'abbiamo. Poi, andiamo avanti con il 22, che non ce l'abbiamo. Poi, e per finire il 34, che ovviamente non ce l'abbiamo. Ok, proviamo il bonus per 2. Il bonus per 2 dice 18. Bene, abbiamo il 19, per cui direi che non abbiamo vinto niente. perché qua non credo che ci sono altri numeri. Ok, per cui direi che questo è perdente, perché non abbiamo vinto niente. Bene, passiamo a questo, che è il 10, per quello nuovo. Allora, andiamo con questo, che c'è il 42. 13, spero che lo vedete bene. 38, i numeri che abbiamo. E per finire il 31. Ok, adesso vediamo se abbiamo uno di questi. Allora, passiamo a qui, con 36, che non ce l'abbiamo. sotto. 41. Non ce l'abbiamo. Allora, gratto male, perché, praticamente, sto abbracciando il cavalletto, dato che non riesco mai a trovare una posizione giusta per grattare e farvela vedere meglio, in poche parole. poi, il sole che va e viene, non so per quanto si vede bene. Comunque, andiamo avanti. qui, il 25, che non ce l'abbiamo. il 32, abbiamo il 31, e 11, abbiamo il 13, per cui niente. qui c'è il 17, per cui niente. qui abbiamo un 26, neanche questo. poi, il 12, non ce l'abbiamo. vediamo gli altri due. 45, niente, abbiamo il 42, e per finire il 16, che non ce l'abbiamo. bene, direi che neanche questo è vincente, c'è andata male, ovviamente non è che tutti i giorni posso vincere 5 euro, o qualcosina per recuperare, per cui direi che neanche questo Grette vinci. C'è andata male questa volta, non abbiamo vinto niente, per cui, perdenti questi due Grette vinci. ok, allora, direi che questi due Grette vinci, che abbiamo grattato, non ci hanno portato fortuna, per cui, sono, perdenti. questa volta, c'è andata male, per il primo video di agosto. Vabbè, vedremo gli altri video, se vinceremo qualcosa, oppure no. Per cui, se siete curiosi, iscrivetevi al canale, così almeno sapete se vinco negli altri Grette vinci. Mi stavo già impappinando. E niente, vabbè, questi due perdenti. per cui, a parte che, non è che mi sono piaciuti così tanto, come gioco, per cui, preferirei gli altri che, che abbiamo preso, erano più divertenti, e, mi piacevano di più, sinceramente. ok, vabbè, il video finisce qua. Spero che vi è piaciuto, lo stesso. Fatemelo sapere sotto qua, nei commenti, se vi è piaciuto, anche se non ho vinto niente. lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lo ripeto tante volte, perché così, almeno, farò altri Grette vinci, se vi iscrivete al canale, e ovviamente, se mettete like. E niente, vi aspetto anche su Instagram, così, c'è qualche sponsor, sponsor, spoiler, ovviamente, sugli altri che usciranno poi, negli altri giorni. Ok, io vi saluto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!